Ciao a tutti ragazzi, benvenuti di nuovo sul canale di Occhi Femaf Io sono Femaf e oggi andiamo a dare da mangiare a Ettore Ehi Ettore, come stai? Andiamo a darti da mangiare Presto, seguimi, seguimi! Dove è andato? Ettore? Ettore? Vabbè, andiamo Oh no, qui non c'è niente Eccolo Ettore! 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 Lo vuoi? Lo vuoi? Allora seduto Stenditi, fai la capriola Fai il morto Ettore! Dai! Ettore! Ok, dai Tieni Tieni, tieni, tieni Ettore, Ettore Devi prenderlo al volo, devi prenderlo al volo Bravo, bravo Lufagnone Bravo, bravo Niente Fagnoni, questo qua è Ettore È il mio cane Spero che vi sia divertito a guardare questo video Lasciate un mi piace Iscrivetevi, commentate E non sacco ognuno Io devo andare a studiare Questo video durerà tipo pochissimo Ciao a tutti, addio